Purtroppo commettiamo degli errori stupidi perché avevamo approcciato bene, avevamo trovato il gol. Era una partita che purtroppo non si può giocare molto in questo campo, quindi tutte le squadre, compreso noi, abbiamo anche cambiato un po' il modo di giocare, cercando anche qualche palla lunga, andando sulle seconde palle, giocando sulle palle inattive. Infatti sulle palle inattive abbiamo fatto gol, abbiamo preso un gol evitabilissimo, il primo gol, a un minuto dalla fine del primo tempo. Però ho chiesto ai ragazzi di continuare, di lottare e poi abbiamo commesso un'altra ingenuità anche sull'altro gol. Fino alla fine i ragazzi hanno dato tutto, però la rabbia è tanta, anche perché veramente spesso non ce ne gira una bene. Abbiamo avuto fino alla fine solo sulle palle inattive, su altre situazioni, perché purtroppo non è semplice giocare, l'abbiamo detto più volte, ma non mi va neanche di ripeterlo. Quindi spesso le partite vanno giocate e indirizzate in questo modo. Abbiamo alzato i centimetri della squadra anche facendo di necessità virtù sulle indisponibilità che avevamo. Ed è stata, non è stata sicuramente una bella partita da parte né di una squadra né dell'altra, ma si è decisa su queste palle inattive, questi episodi che hanno indirizzato la partita verso il Francavilla. Abbiamo messo fallo perché noi abbiamo sempre i due o tre uomini in copertura, che c'erano comunque anche perché il Francavilla non lasciava nessuno davanti e quindi loro andavano tutti quanti a saltare. Se vedete noi sulla prima palla loro siamo arrivati anche addirittura con due uomini, magari uno poteva dare copertura invece che andare. Però lì si commette fallo, si fa fallo e finisce lì l'azione, l'azione muore lì. E quindi non si dà la possibilità all'avversario invece di girarsi e imbucare questa palla. Sicuramente con più attenzione e con più malizia non prendi mai gol in quella situazione, perché basta fare fallo, è finito il primo tempo e quindi andiamo dentro. Però abbiamo preso un gol, c'erano 50 minuti ancora per poter provare a vincere la partita, invece abbiamo subito un altro gol evitabilissimo. Fino alla fine ci abbiamo provato ma non ce l'abbiamo fatta. La profondità ci è mancata perché loro erano bassissimi, quindi essendo loro bassi e in vantaggio, avendo trovato questo gol, loro non avevano alcun senso per andare in avanti. Si sono fermati tutti là e quando noi abbiamo messo la palla in avanti in due o tre situazioni l'abbiamo anche provata ad attaccare alla profondità. Non lo so se c'è il fuorigioco su quella palla dove Vacuo è arrivato da solo in area di rigore, però la profondità non c'è più nel momento in cui loro vincendo non decidono più di salire. Quindi si giocava su queste palle buttate lì e soprattutto sulle palle inattive. Quindi la profondità non l'attacchi perché gli avversari non salgono più, su questo campo rimangono fermi. Gli avversari buttano palla, devono andare a lottare sulle seconde palle. Abbiamo pure rischiato di prendere magari gol, però fino alla fine ci potevamo provare e per poco non abbiamo fatto gol. Sicuramente il gol del pareggio poi avrebbe portato la squadra anche a spingere fino alla fine. Però ripeto, abbiamo preso due gol stupidi e ce ne assumiamo le responsabilità. È una partita che noi volevamo vincere a tutti i costi, sapevamo in questa stagione per vari motivi di dover soffrire fino alla fine. I ragazzi si impegnano, lavorano, sappiamo che ci manca anche qualche cosa. Abbiamo in questo periodo anche subito qualche infortunio di qualche ragazzo che ci può dare una grossa mano. Gli altri comunque stanno dando il massimo. Noi sapevamo da un po' di tempo a questa parte che non sarebbe stata una stagione semplice per noi. Io in modo particolare ci ho sempre messo la faccia, non mi sono mai fermato su niente, superando ogni difficoltà, dando una mano ai ragazzi a cercare di dare sempre il massimo. I ragazzi lo fanno. Poi abbiamo sicuramente dimostrato durante l'arco di questo campionato di avere anche dei limiti che abbiamo superato tante volte con l'organizzazione, con la tattica, con la fame, con la voglia di vincere. Non dobbiamo mollare perché sarebbe un peccato buttare a mare tutti i sacrifici che stiamo facendo. Noi sapevamo da un po' di tempo a questa parte che non sarebbe stato semplice e quindi se dobbiamo lottare bisogna lottare fino all'ultimo. Io sono uno che non si arrende, l'importante è che i ragazzi pensano questa stessa cosa e veniamo messi nelle condizioni anche i ragazzi di non mollare mai, di provare a crederci fino alla fine. Io non voglio neanche pensarci sicuramente adesso al discorso futuro, abbiamo ancora sette partite da giocare quindi purtroppo abbiamo perso due partite, abbiamo vinto all'andata a Francavilla facendo una grande partita, oggi invece abbiamo perso. Portici non meritavamo, oggi è stata una partita particolare. Certo che per il mio modo di pensare, giocando così, mettendo qualche palla alta in più per cercare di andare a lottare su tutte le situazioni, per superare le difficoltà che possiamo avere sul nostro campo, snaturiamo anche un po' il nostro modo di giocare perché spesso, come dice anche qualcuno più importante di me, quando metti la palla alta poi è una scommessa, devi andare a scommettere su che cosa succede, se riesci a prendere la seconda palla se la prendi tu, non abbiamo la possibilità spesso di giocare con la palla a terra non è sicuramente semplice, quindi noi dobbiamo solo pensare in tutti i modi come sarà possibile, lo valuteremo sempre, a raggiungere il risultato sportivo perché è l'unica cosa che conta, salvare la squadra. Ripeto, noi sapevamo di dover affrontare delle difficoltà importanti non ci siamo tirati indietro, non è semplice ma ci proveremo fino alla fine.